Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft della Progetto 3 Bini Ho fatto un po' di cose, adesso vi faccio vedere, vi spiego tutto Allora, ho preparato per fare questi, finalmente li facciamo Ho fatto anche 64 di questi e 64 di questi di Iron Iron Perché è più efficiente per quello che mi serve E quindi andiamo a mettere qua, ho fatto già la stanza Che è 25x25 perché ospiterà due di questi Adesso ne faccio uno per far vedere la costruzione E poi il resto lo faccio off camera E ho preso 5 secchi di acqua Ho fatto questa stanza 25x25 È un 8x8 scavato di, vediamo quanti, vi dico subito Dal pavimento 1, 2 e 3 Quindi sotto pavimento 3 blocchi più il pavimento dello scavo Fatto questo che qui costruirò i sieve Quindi i sieve li metterò qua per farvi capire Adesso vi faccio vedere No, ho detto subito una cacata Scusate, stavo pensando d'altro Non metterò i sieve qua, ma qui metterò della cobblestone Così Perfetto Sopra ci metterò le Queste, le vector plate Per farvi capire Poi dopo vi faccio vedere meglio Così almeno per farvi capire la roba che uscirà Perché passerà attraverso Quindi la figata Dopo andrà a convergere Un unico punto che vi farò vedere qual è Dopo sceglierò io quale Ok, e questo sposta sia gli item che il muovo Vabbè, giusto per le informazioni Poi questo è Dopo sotto qui ci metterò i sieve Con le mesh Speriamo che ci vadano Fatemi vedere Non ci vanno Mi tocca mettere i sieve E poi la roba Vabbè, pazienza Pensavo che da sotto passasse Scusate Colpa mia Allora Ripendiamoci Perfetto Comunque adesso vi faccio vedere La costruiamo insieme Non c'è problema Era per spiegarvi un attimo Cosa volevo fare Ma pazienza Ok Dopo ci metterò Faccio prima tutti i sieve Poi ci metto le mesh Poi ci metto le cobblestone E ci metto le Le conveyor belt Come cazzo si chiamano Le vector plate Ok Qua cosa ci andrà Oltre ad andarci I sieve Che adesso andiamo a mettere Tutti quanti Così siamo a posto Perché devo metterci Il sieve Che devo ancora costruire Quindi insomma L'auto sieve Che devo ancora costruire E quindi Andiamo a fare insieme Allora Facciamo Così Così E poi dopo Lo metterò Lo metterò Adesso andiamo a costruire L'auto sieve Insieme Ok Che dopo verrà Una figata senza fine Questo ve lo garantisco E non ci deviamo più preoccupare Dopo Allora Per fare l'auto sieve Cosa dobbiamo fare Andiamo nelle quest Ovviamente Questo non mi si slocca sempre E andiamo a vedere Qua Facciamo la carat Allora Questo qui ci servirà E facciamo una bella amo Sì Poi ci servirà Questo che ne farò 5 Che dopo 4 Me li regalo E queste qui Che ne servono 3 Dopo 1 Lo dobbiamo usare Ok Andiamo a fare Quindi Cosa ci serve Inizialmente Ci servirà Due Hopper Quindi prepariamo Tutto il necessario Con Il ferro Che abbiamo là E Il legno Che adesso Vado a prendere Qui mi si è dato da parte Ho tolto quel setup Che era qua E Il legno Che vado a prendere Qua l'ho spostato Per fare la stanza Comunque dopo Vediamo Come sistemare meglio E prendiamo Un po' di legno Un po' di stick Che abbiamo già Facciamo così Per sicurezza E un po' di legno Che abbiamo già Dovremmo avere tutto Allora Facciamo così Dovrebbe bastare Tutto quanto Allora Hopper Due Ho detto due Non ho fatto uno Mi sembra ovvio Insomma Come al solito Non so contare Ecco qua E questo è uno Poi ci servono questi Che questi sono facili da fare Quanti ce ne servono Qui ce ne servono Quattro E Per fare questi Ce ne servono Nove Facciamo dodici Ok Facciamo dodici Ovviamente non basta Perché non ho preso la cobblestone E ci vuole pazienza Insomma Eccoli qua Vai qua Arricchiamo così Abbiamo detto dodici E buonanotte Mi sono emozionato E porca vacca Posso fare anche con questi Volendo Però usiamo le stick Ne ho tanti Dodici Eccoci qua E siamo a posto Poi Doviamo fare Cosa manca Manca Oddio Scusate Manca questo Che Devevo fare uno Per il momento E manca Le stick così Sei Ok E Cosa manca Questo Lo facciamo Da che ci siamo qua Ci sembra che emozione Mi mancano due redstone Oddio Ho fatto una Cimetapanico Uno Due Ok Non presi tre Ovviamente Perché io non so mai contare Ed ecco qua Ed ecco qua Uno Due Perfettico Poi Facciamo questo È un'andata Quindi lo depeniamo Dopo ne farò un altro Per conto mio Questo ne facciamo uno Perché lui dopo Se ne chiederà quattro Adesso ne facciamo prima questo Che ci servono I stick Quindi facciamo 12 Per adesso 12 Ma non basteranno Vabbè Intanto facciamo questo Così lui ce lo segna E poi Facciamo questi Qua Così lui ce lo segna Ci dà la quest In teoria Ok E la quest Ci dovrebbe dare Quattro di quelli Perfetto Claim Ottimo Quindi adesso Noi abbiamo Questo E questo Ma noi ci servono Altri Mi sembra due di questi Mi sembra Però adesso ne faccio uno Perché non mi ricordo mai Ovviamente io non so mai contare E ne ho fatto uno di meno di questi Mi sembra ovvio Ed ecco qua Siamo a posto Lo Vediamo Siccome è un 8 per 8 Il mezzo proprio non c'è esattamente C'è un 4 Io ho messo più o meno qua E siamo a posto 1 2 3 E 4 E quindi ci giriamo qua No Ci giriamo qua Che cazzo dico Ce ne ho messo in atto E porca vacca Eccoci Ci mettiamo questo Qua E Sto pensando Che Ce ne vorranno 1 2 3 E 4 A meno 4 Ce ne vogliono Come al solito Ci sta a contare Vabbè Adesso li facciamo Non c'è problema Tanto li devo fare anche per dopo Insomma Non è che vanno sprecati In senso Allora Adesso ne facciamo Un bel po' di quei Uso gli sticker Che ne ho tanti Almeno così Ho tanto di tutto ormai Per carità Però Insomma Nel senso Eccoci qua Dove Cazzo Non ci arrivo Hai promesso Che faccio tutto A parte figure di merda Che le faccio sempre Ok E facciamo un po' Così siamo a posto Facciamo questi Facciamo questi Facciamo pochi di questi Adesso dopo le devo rifare Per fare l'altro setup Quindi Quanto ne vengono Vengono Chi se ne fregola 3 E siamo a 4 Avete detto che ce ne volevano 5 Vabbè Ne faccio un po' di più Tanto insomma Ci servono Spero 5 basti Adesso mi ricordo già più L'ho appena detto Però insomma Lo so che sono Fatto così Allora E notte Dormiamo Per l'amore di Dio Che scenario è buio Non doveva arrivare nessuno Però insomma Non sa mai Ecco qua Perfetto Andiamo E spero vi piaccia Questa mia idea Ho preso spunto Un po' qua Un po' là E questa variante Diciamo Non l'ho vista Almeno per adesso Non l'ho mai vista Poi magari scopo Che ce ne sono altri 100.000 Guardi Figuri tanto Le faccio sempre Ecco qua Ok E facciamo così Perfettico Dopo mi apro Insomma nel senso Adesso mettiamo 5 di qua 1 2 3 4 E 5 Ovviamente non so contare Perché ho sbagliato E 5 Non andava qua Ma andava là E vabbè Ci dovete fare E l'ho fatto Cioè nel senso Ce l'avevo Però sapete Se non faccio una figura di merda Io non sono felice E quindi insomma Alla fine Eccoci qua E questo qua Qui Che non so se riuscirò a mettere Assolutamente no Quindi mi toccherà bucare qua E vabbè Così Ormai è andata Ci dovete fare Intendente per come sono Ecco qua Giusto per allungarmi un attico E poi dopo Poi dopo farò una figura di merda Come al mio solito E quindi sì Eccoci qua Perfettico Ok Adesso andiamo a chiudere Perfetto Facciamo così Non voglio storie Ecco fatto Ok E cosa faremo adesso Se Non ho detto una cacata Questo spazio Mi serve per mettere I secchi di acqua E grazie a questo Si incomincerà a muovere Un po' tutto Vediamo se è vero Non ho detto una cretinata Vai 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 E vai Perfetto Benissimo Io qua Noi qua Possiamo anche chiudere Tanto non ce ne frega niente Una volta fatto Il setup È A posto Non dobbiamo neanche Preoccuparci Ok Questo sta girando Adesso vediamo se funziona Per vedere se funziona Dobbiamo pulire un attimo La zona Perfetto Mettiamo tutti i nostri sieve Così siamo a posto Vediamo un po' Dovrebbe essere un bel lavorino Così a meno Non dobbiamo più preoccupare Ovviamente dopo devo scavare ancora Perché Devo fare i cavi Devo mettere gli hopper Poi intanto vi faccio vedere Come è il setup Se no dopo rischio di fare Troppa confusione E magari Salto un passaggio O magari sono poco preciso Le spiegazioni Allora cerco di essere Ecco Ok Più preciso possibile E questa è andata Poi sopra ci mettiamo Adesso ci mettiamo le mesh Che sono Ragazzi Allora sono qua Perfetto Così almeno Questo è a posto Cerco di fare tutto quanto con voi Così dopo Se c'è qualche domanda Almeno Vedendo Avete già la risposta Quindi dai So che magari può essere Un riso per uno che lo sa fare Però Almeno per uno che non lo sa fare È già tutto a posto Perfetto Questo in teoria È già pronto Poi noi ci dobbiamo mettere Dobbiamo ricoprirlo Usiamo la Wanda Ovviamente non basterà Ok Perfetto Dopo devo scavare ancora Per metterci le Le cose Per fare in modo Che mi Si sposti Mi vada a finire Da qualche parte Però intanto Facciamo questo Allora Uno Due E tre Uno Due E tre Poi dopo Vedo al momento Del setup Dove metterla La roba Intanto ve la faccio vedere Velocemente La faccio velocemente Così almeno Dopo vi spiego Con calma Eccoci qua Sono a rischio Di Imbarbugliarmi Siccome Noi sono più giovono Insomma Succede questo Eccoci qua Perfetto Cosa succederà Che tutta la roba Che uscirà Da là Mi Sputerà Qua sopra Che qua sopra Dopo si sposterà E convergerà Dove dico io Allora Dove la facciamo convergere Cioè Praticamente Io cosa voglio fare Voglio fare Un sistema di hopper Che vada Da una cassa Qua Più o meno Possiamo farla qua La cassa Mi piace qua Facciamola qua Quindi andiamo a fare una cassa Eccoci qua Dovevo prepararmela Insomma Fine Sempre solito Sono Preparo un ben cazzo Allora Vediamo un po' Una cassa Vai E ce la facciamo Perfettico Cerca di preparare Più cose possibile Però alla fine Qualcosa ti dimentichi sempre È normale Dai Allora Io farei un bel po' Di hopper Un bel po' Di hopper Infatti due Questi sono un bel po' Mi raccomando Porca vacca Allora Cosa mi manca Mi manca il ferro Quindi andiamo un po' a caso E Mi mancano I legni Perfetto Andiamo a fare un altro po' Adesso ne faccio un po' Perché d'altro mi serve Per l'altro setup Adesso esageriamo Però adesso Ecco qui Otto Poi devo fare questo Per fare questo Adesso vi farò vedere Come si fa È un'altra cosa da fare Quindi noi adesso Scaviamo un attico Qua Aspettate Perché non voglio fare una cacata Non vorrei cadere giù Aspettate Eh no Non si cade Per fortuna Eh l'ho fatto Nel punto sbagliato Perché qua c'è Il nostro Siv Oddio Non ce ne frega neanche un cazzo Alla fine Che ci sia Che ci sia Non ci sia Carità Ok Allora Facciamo così Facciamo così Dai Ok Lo chiudo un attico Così almeno non mi rompo i marroni Se no mi affogo Eccoci qua Ecco Così almeno siamo a posto E non ci rompe più Quindi io devo andare In effetti Devo andare in un posto Che non ci ho pensato Perché come al solito Faccio le cose frammentarie E porca vacca Eh vabbè Date pazienza Devo arrivare a Qua Ok Mettiamo Questo qua Così Ok Qua così Qua così Qua così E Cerchiamo di farlo bene Insomma male Non piace a nessuno Un altro qua Così Un altro Adesso Devo mettere Devo sistemare tutto Eh lo so che sono una palla Avete ragione Ma insomma Allora Il Sib Qua 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 E qua Perfetto Poi ci va La mesh Qua 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 E qua E ci va Il mattono Ecco fatto Così siamo a posto Allora Io devo Eh Fare una cosa Come al solito Faccio le cose fatte male Perché pensavo fosse qua Comunque ce ne va un altro Oddio Spiegare le cose fatte male Le ho fatte proprio male Stavolta Scusatemi Avete ragione Ecco qua Ok Allora mettiamoci Ok Così Poi così Facciamo così Ok E facciamo così Oh Ce l'ho fatta Per te pazienza Eccoci qua Dovrebbe funzionare Quindi in teoria Se adesso ci metto qualcosa di meshato Dovrebbe andare Allora Chiudiamo E qua ci va la cassa Così facciamo tutta una prova Adesso vediamo prima se va Prendiamo una roba da meshare Mangiamo per l'omor di dio Una roba da meshare Abbiamo il mesh Qui non ce l'abbiamo Un bel martello Eccolo qua Va bene una Non c'è bisogno di fare chissà cosa Ok E vediamo se va Qua Preso l'ha preso Adesso vediamo se esce fuori E vediamo Dove va Speriamo che non vado in mezzo Tanto io posso mettere L'altro vector qua Allora quanto ci metterà Vediamo se l'ha preso Perché se non esce Non l'ha preso Non vediamo quanto ci mette Eccomi qua scusate Ho guardato qual era il problema Non c'era in realtà il problema Ci metteva solo tanto Comunque A volte succede Che uno di questi Che è qua Cade giù nel vuoto Ma dopo Basta ovviare Mettendo un altro blocco Di Un'altra lastra Di cober Di comunque Qualcosa che va a bloccare E quindi non ci va A finire Siamo a posto Poi cosa ho fatto Li ho messe così Vedete Quindi se noi facciamo una prova Vi faccio vedere L'ho siftato un po' Vi faccio vedere Adesso lui prima o piano arriverà Comincerà a siftare E incomincerà a tirare fuori tutto E a convergere Unicamente qua Ho messo un'altra cassa Solo la cassa Non c'è nient'altro Perché adesso andiamo a fare una cosa Che vi faccio vedere Poi qui ho fatto Questo qui momentaneo Che dopo vado a distruggere Dove ci Due di altezza Due E poi ho messo Il pavimento è il due Insomma E poi il terzo Dove ci metterà la roba Vedete E' uscita la roba Guardate che sta andando tutta là Vedete Figata Fantastico Così non va Perché se la facevo a pari Mi volava da tutte le parti Quindi dovevo mettere la staccionata Non mi piaceva Perché ci sono due staccionate Dopo O le mettevo di pietra Ma non mi piaceva comunque Alla fine ho deciso di fare così Carino Ci possiamo provare a mettere il vetro Le lastre fatte incise Il bit Quindi sarebbe ancora più bello Ci passiamo sopra Vediamo la roba che passa Sarebbe una figata Potrei provare a fare Adesso vabbè Comunque sia Va a finire qua E adesso cosa facciamo Facciamo una bella cosa Facciamo questo magic copper Questo qui Che è configurabile E anche upgradabile Però per noi Adesso lo faremo normalo Ci andrà una compressor iron Che si ottiene Sia con un macchinario Che abbiamo già fatto Nella scorsa progettoso O direttamente Però con un molto scarto Dentro a un A un'esplosione Che adesso farò Quindi andiamo a preparare Una leva Che è qua Ecco qua Togliamo sta roba un attico Leva E Il È una TNT Perfetto Che avevo già preparato Apostolo Se mi chiedete Chiedete Chiediate Ecco Come si fa la gunpowder Si fa Siftando La dust Ma soltanto Con la mesh Di flinto O di Cotone Perché se no Non viene fuori Non esce C'è molti modi Per farlo Però questo è più rapido Quindi cosa facciamo Noi mettiamo Questa qui Qui Questa qui Qui E qui ci mettiamo Uno stack Di questo qua Facciamo così E preghiamo Che lo scatolo Sia eccessivo Andiamo Perfetto Andiamo a raccogliere Tac Preso Quante ne sono uscite 46 Mi sta benissimo Andiamo a rompere qua Perfetto Abbiamo risolto il problema Adesso cosa facciamo Adesso mettiamo Andiamo a fare L'hopper magico Eccocello qua Questo famoso Hopper Ovviamente Mi serve una cassa Che non ho fatto Perché io Vi riparo sempre le cose Ciditi Eccoci qua E siamo a posto Adesso facciamo l'hopper Allora Questi possiamo togliere Perché mi serviranno dopo Insomma dai Eccoci qua Fatto Andata Adesso Cosa facciamo Se ci riesco Facciamo Qui è sparito Perché è desponato Vabbè pazienza Lo mettiamo qua Ovviamente L'ho messo di merda Non me l'ha preso Ok Facciamo così Perfetto In teoria A livello teorico A livello molto teorico Se io adesso Facessi così Dovrebbe tutto convergere Qui dentro Vediamo se è vero Facciamo così Così lo vediamo Adesso vediamo Prima cosa esce Che sarà un macello Di uscite Qui c'è una figata Senta finole Allora queste torce Devo rimettere qua Che mi piace di più Dove è aperto la torcia Qua Mi piace di più Tac È più carina Dai Forse posso togliere questa Sì Posso togliere Vedete Opla L'abbiamo automatizzato Senza fare il Il collect Quello abbiamo con la roba Andate che figata È Piano piano Finisce Forse qualcosa Va perso Non lo so Può darsi Che un minimo Di pellet Abbiamo Però Ragazzi Appena mettiamo Il collector Abbiamo già risolto Ogni problema Tanti seduti al pifero Dopo toglierò questo Metterò Una cesta Qua sopra Con il collector E non va più perso Niente E posso togliere Anche le Converberto Come si chiamano Le vector plate Però così Ci sarà forse un po' Di scatto Che qualcosina Può darsi Che vada perso Per carità O se no Lo posso mettere Direttamente qua Dopo vedo Ci penso Comunque per il momento Che non abbiamo Niente altro Di sorse Mi sembra una soluzione Piuttosto accettabile Adesso Purtroppo è lento Lo so Però va Dai piano piano Dopo ci Upgraderà Per adesso La soluzione Che ho trovato Più diciamo Rapida Il dolore Poi dopo Ovviamente Non è Molto dispersivo Però A meno Automatico Le mettiamo là Tanto è roba gratis Cioè non è che la paghiamo Nel senso Ce la fanno gratis E noi siamo a porto Spero Vi piaccia Questa idea Che ho avuto Sì Perdi Abbiamo qualcosina Ho notato Dovevi fare Forse per non perdere Dovevi fare Un altro strato Potrei Togliere Le conveyor Cioè mettere Il più basso Così non perdiamo Niente Potrei fare Tante cose Effettivamente Però dopo venire Troppo basso Non mi piaceva Per me va bene Così dai Tanto dobbiamo Fare solo quello Quindi possiamo Andare avanti E dipendere anche Questo Che siamo contenti E abbiamo fatto Quasi tutto Adesso dobbiamo fare Solo la caccaro Che dobbiamo andare Nel nether Che ci servirà Da fare Cosa ci servirà Da fare Ci servirà Da fare Un altro setup Così che servirà Per far sì Che noi Facciamo L'ossidiana Una fame di ossidiana Ma adesso L'ossidiana La faccio a mano Perché la voglio fare a mano Perché una volta Che è stato un nether Vado a prendere L'eatsand L'eatsand Cosa farà Mi porterà Questo che è a 30 Fino a 300 Mi sembra Che non è male Come cosa E quindi Mi farà La lava A rotta di collo Una fame Della miserica Quindi da dopo Facciamo La fame di ossidiana Fatta per l'inverso Facciamo così Va bene ragazzi Direi che ci possiamo Salutare qui Per questo video è tutto Vi dobbiamo salire Lasciate un like Come se vi piace La serie di famiglia Per sapere che ci pensate Per la salita Salute la cima Ciao